Ciao, bentornati su Pie Alert. Vorrei ricordarvi che entro l'8 novembre 2013 potete presentare proposte per il sostegno a favore di azioni e di informazione riguardanti la politica dell'economia, PAC. Se invece vi piacciono i bambini o vorreste fare gli animatori, potreste partecipare a uno step pubblico a cera con scadenza 29 settembre. E se invece potete diventare indiricinati come me, avete fino al 15 ottobre per presentare domanda per il terrucita al Parlamento Romeo, anche con l'opzione di giornalismo. Tutto questo su... Hashtag Viene Anastora Ale!